Il 45esimo congresso nazionale della SIFO è alle battute finali, si tratta di un'edizione di grande successo per l'affluenza e per le tematiche che sono state trattate. Con il dottor Maurizio Pastorello, direttore del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell'ASP di Palermo, parliamo dei pazienti immunocompromessi, di come proteggerli dalle possibili infezioni del covid che in questi soggetti possono rappresentare un problema clinico importante. Dottor Pastorello, perché il paziente immunocompromesso di fronte all'infezione da covid è maggiormente esposto ai danni della malattia e come fare per proteggerlo? Si può utilizzare il vaccino o ci sono altre modalità? Il paziente immunocompromesso è un paziente particolare che non può essere spesso egibie al trattamento col vaccino, quindi con l'immunopropilassi attiva o comunque non risponde appieno alla somministrazione del vaccino e quindi è necessario intervenire con un farmaco per l'esposizione all'infezione con l'anticorpo monoclonale. E perché è giusto proteggerlo? Per evitare che le infezioni in un soggetto immunocompromesso l'infezione possa aggravare la sua situazione che può essere anche, diciamo, può arrivare ad esiti fatali. Senta, quindi dato che i pazienti immunocompromessi nell'ospedale possono afferire a tanti reparti, quelli oncologici, quelli ematologici, alle volte anche quelli reumatologici, quindi il paziente è un po' sparso nell'ospedale, quindi c'è una tematica organizzativa direi piuttosto importante che voi avete affrontato in un progetto molto interessante che si chiama Prevention Management Lab, che si è occupato proprio di queste cose. Allora, innanzitutto c'è il tema di individuare il paziente, di reclutare il paziente giusto, perché non tutti poi hanno bisogno di questo tipo di protezione. Come fare per individuare il paziente giusto? Chiaramente lo specialista sicuramente interviene perché è quello che è più a contatto con il paziente, ma sicuramente è necessario creare un percorso che preveda anche la presenza del medico di medicina generale, ma anche del farmacista. Il farmacista ha le banche dati, quindi ha i flussi della farmaceutica e quindi dai flussi dei farmaci che il paziente utilizza può sicuramente intervenire, intercettare il paziente e quindi presporre degli elenchi da trasmettere agli specialisti per le analisi successive e poi la somministrazione dei farmaci. Il secondo punto chiave è quello dell'accesso al farmaco, che vuol dire l'approvvigionamento e naturalmente la somministrazione. Lei ha sottolineato come sia un tema multidisciplinare in cui il farmacista naturalmente gioca un ruolo molto importante, spesso quasi da regista. Ci racconta un po' come stanno le cose. Partecipando a questo progetto, che ha visto figure professionali diverse, ma provenienti da diverse regioni, è emerso come ci sia una diversa possibilità di accesso al farmaco nelle varie regioni e quindi necessita sicuramente di individuare un percorso che nel rispetto delle autonomie regionali, però, possa permettere al paziente di accedere al farmaco. Ritengo che il percorso deve essere, io ritengo che a prescindere dal farmaco in questione, ma per l'accesso ai farmaci devono esserci indicati percorsi veloci, in modo che a seguito dell'immissione in commercio del farmaco, il farmaco si renda disponibile prima possibile per il paziente. Perché, lo ripetiamo, il paziente immunocompromesso, se si benca l'infezione da Covid, rischia grosso. Assolutamente, assolutamente sì. Quindi la preesposizione in questi pazienti, sicuramente immunodepressi, è sicuramente importante e fondamentale.